E salve a tutti amici Kuperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo con il super cappellino visto che sono mezzo pelato Non ho più tutti quei capelli che avevo prima E questo video davvero davvero molto veloce Soltanto per dirvi che non ci sarò per un po' Perché mi opero agli occhi che io porto questi occhiali che sono delle bombe di occhiali Sono davvero enormi E quindi... Poi dovreste abitu... Vi dovrete abituare a vedermi così che io non vedo un cazzo E quindi niente lunedì 18 io mi opero Non ci saranno video Vedrò un po' che cosa fare Forse potrebbe streamare Greyfox nel mio canale Però in caso in descrizione trovate il suo link di Twitch E quindi niente non ci sarò per un po' Non so per quanto Però poi ritorneranno ovviamente dopo video, live, ci sarà pure la webcam E quindi niente che dirvi In questa settimana forse ci saranno altri video non di gioco Ma che parlerò di cose Quindi se vi interessa poi guardatevi perché sono uno molto interessante E uno un altro diciamo informativo Quindi niente io vi ricordo che c'è il canale Twitch Faccio diverse live Quindi se volete venite a vedermi lì Che c'è pure la possibilità di subbare Adesso siamo arrivati già a 3 sub il primo giorno Sono contentissimo E quindi niente Non ci sarò per un po' Venite a vedermi poi in live Guardate sempre i video Sotto in descrizione Facebook per vari aggiornamenti Discord per non perdervi anche mai una notifica Quando vado in live E pubblico i video E anche su Telegram Trovate tutto in descrizione Quindi niente io vi saluto E vi invito di nuovo ad andare a vedere il canale Twitch Di Grey Fox Anzi Mr. Fox Che gioco sempre con lui Quindi io vi ringrazio E ci si vede ai prossimi video Ciao ciao